Entra ora in piazza il gruppo proveniente dal Cile, il ballet folclorico dell'Università de Tarapacabafut di Arnica. Questo gruppo è una compagnia artistica stabile senza fini di lucro. Fu fondato nel 1971 dal maestro Manuel Mamani. Da quel momento ha realizzato in forma continuata una fruttifera traiettoria di proiezioni di valori artistico-musicali e coregrafici delle tre zone geografiche del Cile. L'amore per il patrimonio culturale e per la scoperta delle proprie radici hanno contribuito ad arricchire la personalità di ogni singolo componente del gruppo, permettendo allo stesso di essere riconosciuto come uno dei più importanti del Cile. Questo gruppo è per 300 un'assoluta novità. Grazie. 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 Grazie.